Seconda notte l'addiaccio per i lavoratori dell'elettroclima e della nuova ex gamma che protestano con blocchi in via generale Cascino ed in via mare all'ingresso della raffineria Eni di Gela. Gli operai sono destinatari di lettere di licenziamento, una situazione, non ci stancheremo mai di dirlo, che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Si tratta di lavoro, si tratta di sfamare le proprie famiglie e con il lavoro non si scherza. Il Vescovo della Diocesi di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana, sta seguendo con particolare attenzione ed apprezzione quanto sta accadendo. La Chiesa è al fianco dei lavoratori e l'ho detto ieri ai nostri microfoni manifestando immensa solidarietà ai lavoratori. Mi sto muovendo assieme ai sindacalisti per incontrare il prefetto, è stata una mia precisa intenzione, perché si possa trovare assieme, pensare assieme, una strategia che in questo momento non riesco a cogliere, se non chiaramente in questo sperato confronto. Io non li abbandonerò, l'augurio non è un augurio astratto, non li abbandonerò, cioè che significa? A parte la vicinanza, anche fisica evidentemente, purtroppo in questi giorni da quando è cominciato lo sciopero non sono riuscito a poter intervenire, ma è già andato, so che sono andati alcuni miei sacerdoti e io lo farò al più presto, però concretamente significa che li sosterrò anche da un punto di vista materiale. Quindi li aiuterò per quanto è possibile, chiederò anche un aiuto alla Caritas perché possiamo essere vicini a loro per quello che effettivamente in questo momento desiderano. Questi sono i due auguri che io vorrei rivolgere a loro, ma a questo punto aggiungo un'altra cosa importante, che a mio parere non è legata soltanto a questo che ho detto. Noi dobbiamo assolutamente tentare una strada perché si riprenda il lavoro. Capisco che questo è molto lungo, ci vuole tempo, ci vogliono momenti di riflessione, però desidero che tutta la comunità cittadina, ma soprattutto dove dovrebbero essere, e spero che lo saranno, capofila i preti e le comunità ecclesiali e di conseguenza tutti quanti, per poter riflettere in maniera, direi, seria e definitiva una chance e possibilità di lavoro, perché questo è quello a cui dobbiamo tendere.